C'è questo tema delle multe nelle aree che sono state penalizzate, come andrete avanti? Come abbiamo detto, è difficoltoso perché non è che le multe si prendono e si stracciano. Per alcune categorie è molto semplice, residenti, riders e altri. Per altri c'è una procedura un po' complessa perché alcune multe erano già partite, alcune sono state pagate. Stamattina c'è stato un incontro in prefettura anche tra il vice sindaco e il prefetto. Quello che ho detto, quello si farà, però non aspettiamo l'ansia di prestazione del giorno perché sarà graduale. Ripeto, molto più semplice per alcune categorie perché sono certificate, per altre è più complesso perché poi, ripeto, l'errore è stato fatto, ma non dall'amministrazione. Da chi ha preso la multe, errore in buona fede, però dobbiamo attivare un percorso perché non è che le multe si prendono e si stracciano, si bruciano e si fa un rogo a piazza Municipio. C'è un percorso amministrativo che si deve eseguire, quindi tranquillizzo tutti. Quello che abbiamo detto, quello si farà. Multe cancellate dal 6 giugno all'altro giorno da quando è entrata in pubblicazione la delibera, con un processo che durerà qualche settimana. Penso che alla fine di quest'anno avremo completato, immagino, tutto l'itero amministrativo che comprenderà anche il rimborso di chi ha pagato.